Salve cittadini sono Eurabaico, dopo domani ovvero venerdì ne vedrete veramente delle belle perché siamo stati a registrare in due città, la prima a Bassano del Grappa dopodiché la seconda la vedrete settimana prossima e venerdì prossimo e la lascio insomma come sorpresa siamo stati a Bassano, città, vabbè paese meglio dire, veramente fantastico mi è piaciuto veramente molto e questo paese è molto antico pensate voi, siamo stati al museo degli alpini dove però purtroppo abbiamo avuto, è accaduto qualcosa di spiacevole poi siamo stati alla distilleria Nardini che è la più antica distilleria di quel posto lì ecco, dopodiché siamo stati in una antica osteria, sempre lì di Bassano vedrete tutto quindi nel sorriso domani sera qui vi ho solo dato un'anticipazione diciamo verbale a parole e tanti saluti dal mare, siamo qua in Veneto guardate dietro, inizia ad esserci tanta gente ormai le scuole sono finite, sono quasi se non per chi ha la maturità però si sta veramente bene un po' di relax fa sempre bene per tutti ci vediamo quindi venerdì sera, non mancate il servizio intero ciao